La Bitcoin price prediction più famosa al mondo è stata quella di John McAfee nel 2017 il quale sosteneva che il Bitcoin entro il 2020 sarebbe arrivato a prezzare prima 500.000 dollari e poi corretta addirittura qualche settimana dopo a 1 milione di dollari. Abbiamo visto come nel corso del 2020 questo tipo di proiezione non solo è stata completamente disattesa ma addirittura lo stesso McAfee l'ha ritirata sostenendo, ricordando che bisognava essere degli idioti per credere nel 2017 che il Bitcoin potesse effettivamente arrivare a quella quotazione. Attenzione, mai che succeda che il Bitcoin possa arrivare a un milione di dollari o che si avvicini o quantomeno raggiunga quotazioni oggettivamente molto elevate e sapete per quale motivo? Per la incolumità delle persone. Immaginate in questo momento quante centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo hanno pubblicamente sostenuto di aver acquistato frazioni di Bitcoin o qualche Bitcoin e lo hanno fatto appunto in maniera pubblica riportandolo in qualche intervista citandolo all'interno di qualche piattaforma di interazione sociale quindi affermazioni che col tempo poi rimangono e possono essere rintracciate rintracciate da chi? E immaginatele un attimo da qualche organizzazione criminale che si occuperà più avanti di andare a ricercare le persone in passato avevano dichiarato di aver acquistato Bitcoin per effettuare dei sequestri di persone a scopo estorsivo vi sono già dei romanzi che sono stati pubblicati o dei gialli, dei thriller che sono stati pubblicati negli Stati Uniti che parlano di un futuro non tanto remoto in cui questo tipo di evenienza si realizza e pertanto le persone vivono letteralmente segregate per la paura di essere sequestrate poi ci sono anche tutta una serie di spiacevolezze legate a questo tipo di eventualità immaginiamo chi l'avesse comprato l'avesse dichiaratamente reso pubblico poi a distanza di qualche anno va a liberare le proprie va a vendere, a smobilizzare le proprie posizioni diventa interamente liquido in traditional fiat currency ma poi a distanza di tempo magari viene rapito lui o peggio ancora vengono rapite persone care a lui ai quali viene imposto, richiesto un riscatto da questo punto di vista la maggior parte delle istituzioni a livello nazionale non potrebbe fare niente perché sappiamo benissimo come Bitcoin al pari di tante altre criptovalute rappresentano delle blockchain decentralizzate pertanto c'è la possibilità da parte di un'autorità terza di intervenire per manipolare il prezzo impedire la negoziazione, la transazione e così via discorrendo diverso il caso invece in cui chi ad esempio ha effettuato investimenti a livello istituzionale quindi si è appoggiato a attori di mercato che figurano come personalità giuridiche le quali gestiscono la detenzione e la segregazione degli asset attraverso servizi di institutional custody di digital asset che cosa significa? che voi non detenete di fatto le criptovalute ma le criptovalute sono depositate segregate all'interno di trust company che funzionano come se fossero delle banche svizzere tornando indietro con la memoria agli anni 70 in cui si pagava per depositare e tenere la sicurezza che quell'asset non potesse essere rubato che non mi potesse essere portato via mai pertanto che succeda e questo è un mio personale auspicio perché ci sarebbero poi tutta una serie di ulteriori problematiche secondarie sempre legate all'incolumità delle persone per il fatto che ci potrebbe essere ci sarà sicuramente qualcuno visto che già esistono oggi truffe conclamate che vengono strutturate utilizzando proprio il bitcoin o altre criptovalute analoghe che quindi non consentono con facilità l'identificazione del beneficiario finale e potrebbero dar vita a questo tipo di mondo sommerso di nuove opportunità per il crimine organizzato che inizierà a sequestrare le persone care a chi di chi aveva in passato annunciato di aver investito in bitcoin pertanto ti diranno letteralmente guarda abbiamo sequestrato tua figlia che è uscita dalle scuole se la vuoi rivedere vedi di presentarti a questa location che è distante da telecamere che non sia facilmente rintracciabile da terzi con la transazione di bitcoin o meglio ancora la transazione la facciamo in tempo reale in quel momento quando ci trasferisci i bitcoin o le frazioni di bitcoin ricordiamoci che una frazione di bitcoin potrebbe tranquillamente se quelle quotazioni quelle ipotesi di prezzo dovessero veramente verificarsi arrivare a 300, 400, 500 mila dollari pensate in questo momento dove si sta diffondendo molto il bitcoin come alternativa alla detenzione di capitale o di denaro in paesi che sono strutturati o sono soggetti ad elevata inflazione interna purtroppo questi stessi paesi sappiamo benissimo che hanno delle problematiche di gestione quelle che sono la proliferazione delle organizzazioni sia criminali che micro criminali all'ordine del giorno pertanto non si deve per necessità pensare a un sequestro di persona del figlio di una persona altelocata basta semplicemente che sia il sequestro di persona di chi magari aveva ha detto di aver investito oppure si riesce a risalire a chi potrebbe essere il soggetto beneficiario di una determinata transazione per andargli a sequestrare il figlio o i figli con lo scopo poi di estorcere denaro vi lascio in nota integrativa della clip ulteriori elementi di approfondimento a questo tipo di rischio qualora, ripeto il bitcoin dovesse arrivare a quotazioni veramente notevoli veramente elevate grazie a tutti grazie a tutti